...con un pulvolo, con il Gori che è lì a decidere chi farà la frazione e chi farà la seconda frazione e Francesco messa in perità, temperatura 1 grado, prima frazione, funziona, l'ultimo a essere funzionato del signor Brocci che è il creatore della bicicletta, uno dei tanti, però se la vende, se la compra per sé quindi ha delle comunicazioni importanti per l'anno prossimo, quindi già alcune anticipazioni No, non sono soltanto salutare l'amore del comune di Gallegas No, per via! Aspetta, ti lo sento la scuola! No, forse no, ti lo sento la scuola! Vabbè, vedremo! Vedremo! Stefano, il top runner là, e siamo fermi! Mentre conducevo la corsa, non sbaglio una svolta E' una cosa più incredibile, che il primo deve ancora arrivare, ed è quello laggiù Il primo ha vinto! Siamo ultimi! Mannaggia, abbiamo 15 soldi di vantaggio, eh! Davvero, tutto buttato prima La 66 km! Ho fatto la 66! No, cosa hai visto? Tutti che tornano indietro! Bellissimo! Nooo! La svolta! Quella è una banderia di giro! Stiamo per diventare in gruppo! Era lì che conducevo! Non ancora qualcuno dentro! Ma stai, vabbè! Stava uno svincolo sbagliato, via! Eccolo lì! Eccolo lì! Il vassardone vicino! Eccolo lì! Vabbè Raura, eh! Perderà qualche secondo! Cogli dietro di 20 secondi! Circa, forse meno! Vabbè! Però qui è un tratto! Vabbè! Le tue capacità di sciatista! Mi recupera qualcosa! Bello, eh! Molto meno di 20 secondi! Quanta sonata? Sì! Un po'! Fija se stavo dietro! Poi, fai, fai, fai! Ma il problema non è la macchina che mi sonava! È te che mi hai ripreso! Eh! Guarda! Un po' di sofferenza! È già sua! Com'è bello essere fermi! Qua, tra il castello è qua, è il castello, quella è buona, bellissima, bellissima, bellissima. Francesco, allora, stiamo qui, manca poco, dovrebbe arrivare con Francesco, con la Beatrice, Ricori sta andando a vedere, a perlustrare, se arriverà prima Francesco, nel caso li farà sgambetto, e se invece perderanno, pagheranno una bevuta, ovvero una taglia di 10 litri di birra, tra pochi minuti. Trepitante attesa di aspettare, di sapere chi vincerà questa bevuta. Sarà Francesco, con le sue doti da scalatore? Sarà Beatrice, l'equivalente in ogni percorso? Chi lo sa, chi lo sa. Beatrice, è quella accanto, quella dietro? Oddio mio, che francesco! Mannaggia, che atleta campione, ragazzi! Grande! Che atleta campione! È già arrivata Beatrice! Mmmmm... Un po'! Se no, io un po', un po'... No, come? Sei così fresco! Se no, sei fresco come un fiore! Oh, qui siamo su... la ventesima posizione! . . . . . . Viglio il rosso! 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 Pettorale 353 Pettorale 382 Dispettivamente Marino Casperoni e Federico Pani La staffetta non c'è a medaglia Guardi, stai già mandando a far culo tutti Magari alla fine non corre più sulle punte di un po' di tiro a uno, andando a correre fuori è solo sulla vanpea Stiamo è finita! Stiamo è finita! Ti odio! Stiamo! 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 Bravo! Ora! Alto arrivo! Pettorale! 598! 596! Beatrice Fedeli! Polisportivo Oltrarno! Come? Beatrice! Vieni qui! Quando ti sei ripresa! Staffetta! Staffettista! Staffettista! Ficcia! Ficcia! No! Niente! Non rilascia le perviste! Beatrice non parla! Via! Altra giornata bella! 3'34 Per il Sport! Alla prossima! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.